Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san Paolo. Almanacco di bellezza 22 febbraio Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, beh l'inizio un inizio veramente scoppiettante, è un film del 1943, ce ne sarebbero stati altri e il volo a cavallo della palla di cannone è l'immagine più famosa del fantastico barone di Munchausen, risultato forse più unico che raro della confusione tra realtà e immaginazione con il protagonista di oggi perché Can Friedrich Eonimus von Munchausen è nato l'11 maggio del 1720 nel paesino di Bodenwerber, siamo in bassa Sassonia, dove anche si spegne il 22 febbraio del 1797, anno in cui accadevano tante cose, quindi è esistito, è esistito e ha ispirato però tantissimi racconti tra i più inverosimili per diversi scrittori e una quantità impressionante di pellicole cinematografiche, è un fanfarone in realtà sto barone di Munchausen e racconta delle gran balle però le racconta bene e soprattutto siamo in un momento storico che consente questa carriera, è il momento di Casanova, è il momento di Cagliostro, è il momento di Barry Lyndon, cioè l'avventuriero è nel suo secolo perfetto, il 700. Il ragazzo resta orfano, il padre quando ha quattro anni e a 15 diventa paggio, paggio del duca Ferdinando Albrecht II di Brunswick. Wolfenbüttel. Wolfenbüttel. Sì, Luneburg, siamo nella zona della Germania del nord, appunto nella bassa Sassonia, sono principati che lavoravano molto per le grandi nazioni, quindi c'erano mercenari, c'erano generali. Il duca lo spedisce con il figlio in Russia. Lui accompagna Anton Ulrich, figlio del duca, a Riga sappiamo che inizia una folgorante carriera militare nei corrazzieri al servizio della Russia. Ci sono un paio di campagne contro i turchi, sposa una fondunta jacobina, ma la fortuna e il legame con la grande patria si interrompono dopo il colpo di stato di Elisabetta che qua abbiamo già narrato, 1741, perché il suo mentore cade in disgrazia e lui addirittura è costretto a fargli da carceriere. Sì, la situazione si trascina fino al 1754, raggiunge faticosamente il grado di capitano, viene espulso dal reggimento e torna nel suo paesino natio a 1200 anime, non sa bene come passare le giornate, si annoia molto, si va a caccia ogni tanto, c'è il padiglione di caccia, lui se ne inventa uno che costruisce un po' sulla falsariga di quelli orientali della Dacia, lo chiama il padiglione delle bugie. Lì riceve gli amici e racconta tutte le sue mirabolanti imprese di una vita all'estero che nessuno poteva certificare. Non ha talento come scrittore, ma deve essere un chiacchierone formidabile, perché noi sappiamo che nel 1761 a Danhofer vengono pubblicate anonime per la prima volta tre storie, un cane con una lanterna sulla coda, sette pernici uccise con una bacchetta di caricamento e la fuga su un cane all'inseguimento di una lepre. Passano vent'anni di allegre chiacchiere in compagnia di questa gente del posto e nel 1781 esce a Berlino A Guide for Mary People. Ci sono sedici racconti, sono sempre anonimi, ma il vero scopritore di questo personaggio è Rudolf Erich Rasp, eccellente narratore, scrittore, scienziato, archeologo, ma anche un truffatore della peggior specie, in quel momento tra l'altro in difficoltà finanziaria che dopo averlo ascoltato nel padiglione delle bugie, se questo funziona, di lui resta semplicemente ipnotizzato dalle balle raccontate dal nostro Munchausen e nel 1785 pubblica in Inghilterra, storia dei meravigliosi viaggi e delle campagne di Russia del barone di Munchausen, libro che rende definitivamente famoso il re dei bugiardoni. Sì, anche perché la gente non viaggiava come oggi, quindi si lasciava, diciamo, irretire da questi racconti sorprendenti, dalle avventure esotiche di Munchausen. L'edizione di Rasp non resta isolata, viene tradotta in tedesco da Gottfried August Burger nel 1786 e poi ancora a metà ottocento esce una nuova versione di Karl Lebrecht in Merman, fino ad arrivare all'edizione del 1862 del libro di Rasp con le illustrazioni ancora una volta, l'altro giorno l'abbia citato per l'inferno di Dante, sotto al busto del barone si legge Canova Scolpì, 1266 però quindi è una balla dichiarata, e sullo stemma Mendace Veritas, Pietro citati nell'edizione italiana del 1978 descrive lo spirito dell'opera di Rasp. Divenuta sovrana della letteratura, la ragione si diverte a beffare se stessa e a prendersi gioco delle cose create. Così inventa un mondo opposto a quello razionale e reale, dove la menzogna, meditata a occhi aperti e a mente fredda, ostenta la propria smaccata impossibilità, dove l'inverosimile sconfigge di continuo il verosimile, le dimensioni sono immensamente più grandi di quelle terrestri, le situazioni rovesciate, i rapporti distorti. Questo gioco fantastico non tradisce mai la propria natura. E persino Calvino si ispira nelle sue fiabe italiane alle valle del barone che affondano le radici in una tradizione letteraria molto popolare in Germania fin dal tarido medioevo. Tu ci credevi a Munchausen? Io ci credo ancora. Credo anche a Big Fish, il film con Albert Finn è meraviglioso. E anche a Babbo Natale? Babbo Natale non solo ci credo, ma a volte gli barbo e poi ogni tanto lo faccio io. E la Befana? La Befana ho avuto una relazione e sono nati anche dei piccoli Munchausen. Senti Leonardo, nel caso del nostro Munchausen c'è in qualche modo anche un melange, diciamo menzognero, che unisce le sparate germaniche a quelle russe. Sì, è un cocktail esplosivo. Ma è chiaro che le sue favole superano di gran lunga ogni tradizione aspettativa, perché il livello di assurdità è tale da non convincere neppure un bambino. Alcuni esempi, sempre che appunto non basti la cavalcata sulla palla di cannone, c'è un albero di ciliegio cresciuto tra le corna di un cervo, c'è un mantello morso da un cane randaggio che diventa rabbioso e si lancia fuori bondo sugli altri abiti riducendoli a brandelli. C'è l'orso che viene sconfitto infilandogli una pietra focaia in bocca e un'altra nel sedere, così che quando le due pietre si incontrano nella pancia dell'orso esplodono facendolo a pezzi. Che brutta cosa. Mamma mia. Allora, ovviamente viaggia per ben due volte sulla luna, è chiaro, e la prima si arrampica su una pianta di fave, la seconda è trasportata da un ciclone con tanto di vascello e marinai. La sua fama è arrivata fino ai giorni nostri, un po' da tutte le parti, e Munchausen a un certo punto addirittura ordina i servi di non fare entrare i curiosi che accorrono da ogni parte e dopo la morte della moglie, a 74 anni, pensate, questo signore è questa nella vita reale, sposa una diciassettenne, Bernardine von Brun, una ragazza molto frivola veniva descritta così e molto dispendiosa, che purtroppo lo inguaia con infinite cause in tribunale e poi lo abbandona e lo porta a uno scandaloso e rovinosissimo divorzio. Muore per un attacco di cuore il 22 febbraio del 1797 e oltre a queste sue mirabolanti, pazzesche, storie di libertà, di allegria, lascia in eredità il nome a una patologia psichiatrica che spinge le persone a inventare malattie per avere continue attenzioni mediche. E poi ad alcuni particolari numeri, all'inclinazione e l'ossessione dei numeri. Ah sì, eh? Hai capito? La sindrome di Monshausen. Aiuto. Noi ci congediamo con la versione del 1988 con Terry Gilliam. Beh, bellissima. Un film bellissimo, catastrofico. Robin Williams, Valentina Cortese, Uma Thurman, Sting, Jonathan Pryce, anche un cammeo di Piero. Sì, ci sono anch'io insieme a Sean Connery. Fotografia di Peppino Rotunno, scenografia di Dante. Prodotto da George Erison. Fu un disastro al bottegino. Scenografia di Dante Ferretti, costumi di Gabriella Pescucci. Io andai a vederlo al città, tu non eri ancora nato, prego la regia. No, io avevo dieci anni. Ma pianta. È vero. Ma tu non hai mai avuto dieci anni, tu sei nato qui così. Ah, è vero, sì. Ce l'ha detto la Giuliana. Eh sì, è un caduto dall'albero. Evviva, prego la regia. Portami via con te. Di nuovo sulla terra. Sì, oh sì. Senza il tuo cortino. Credevo che tu mi amassi per quella che sono. Io ti amavo. Cioè, ti amo. Certo che ti amo. È solo che io... Dobbiamo andare. Hai ragione, Fero. Senza il corpo è impossibile. Prendi una ciocca dei miei capelli. Maria Ghezzi aveva questa capacità di disegnare a China veramente prodigiosa, per cui veramente con pochi tratti, molto caratteristici e molto riconoscibili, riusciva a delineare delle situazioni anche particolarmente complesse. E di conseguenza per Giancarlo Brighenti era l'interlocutrice ideale. La testimonianza di Alessandro Bartezzaghi, che è il direttore della settimana enigmistica, ci porta in un mondo che amiamo molto, è un mondo a cui vogliamo anche bene personalmente. Salutiamo il nostro amico Francesco Baggi Sisini. Evviva. E salutiamo il nostro amico Stefano Bartezzaghi, immensa penna, immensa testa, immenso cuore. Grande spinito. Grande spinito. Il 22 febbraio del 2021, quindi tre anni fa, è morta a Milano la pittrice e disegnatrice Maria Ghezzi Brighenti, in arte la Brighella. La Brighella. Perché era la moglie del Brigamo. Del Brigamo, vè. E lo racconteremo. Magari è un nome che non dice molto, ma in realtà tutti avete visto le sue opere. Possiamo dire che è una delle artiste più conosciute del nostro tempo. Indubbiamente. Pensate che questa donna, a partire dal 1952, è stata l'illustratice dei Rebus della settimana enigmistica. Con lei. Tu li risolvevi Rebus. Con fatica. Con fatica. Con fatica. Io ma faccio fatica a fare tutto. Non è una novità. Con la sua opera grafica ha stabilito lo standard tecnico e artistico. Tennico. Qua, tecnico e artistico, col quale ormai da decenni, chiunque in Italia voglia occuparsi dalla creazione dell'immagine di un Rebus, deve confrontarsi. E non lo dice uno qualunque. No, lo dice un gius lavorista di fama. Pietro Echino. Pietro Echino ha detto questo. Evidentemente è un grande... Applauso alla Brighella. Allora, un Rebus è un gioco enigmistico che consiste nel presentare un soggetto da indovinare per mezzo di segni e figure. Questa è la definizione che dà la Treccani. Più poeticamente è il più incantevole degli enigmi per diversi motivi, il principale dei quali è fare del misterioso rapporto lenario del cuore tra le parole e le figure un meccanismo di gioco che congiunge esattezza e fantasia. Questo l'ha detto Stefano Bartezaghi, il nostro amico. E poi c'è me... Esatto. Quella figura. Mele, 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 mele o nardo. Nardo un altro frutto che cresce a Modena. Quindi volete le mele o le narde. Va bene, senti, ce ne sono di tanti tipi, ma grossomodo se ne distinguono gli generi. Ecco, precisiamo. E diciamo quali sono. Sì, il rebus statico di denominazione, quello in cui è Celle Amerigo, in cui si ricava la soluzione dalla semplice denominazione degli oggetti. E il rebus dinamico o di relazione, in cui... Scusami, in cui è Celle Sofonisba, il Babi Ursa in questo è fortissimo. In cui è sempre il chino da giusto lavorista a specificare. Abbiamo capito che il chino non fa niente della mattina alla sera e fa solo la settimana di misura. No, non mi permetterei mai. Professore Tino Mintino! In cui si richiede di descrivere una relazione tra le varie chiavi, per lo più attraverso aggettivi o verbi, dicendo quindi com'è o cosa fa un oggetto rispetto all'altro. Allora, per i non specialisti, che sono tanti, si definisce chiave di un rebus nel disegno, l'insieme di un oggetto e dei suoi segni. Il rebus è un enigma, è un gioco antico. Lo dice anche il moto est modus in rebus. Poi c'è anche il rebus sic stantibus, che vuol dire se il rebus è stantio è meglio sic. Sì. Va bene? Ma vabbè, no. Bel latino, ma aveva un bel voto. Senti, non vogliamo farvi la storia, ma tantomeno non vogliamo darci delle arie. Ma se uno nella vita ha avuto a che fare con Leonardo da Vinci, per esempio, sa che lui si dilettava a fare il rebus. Noi abbiamo avuto la fortuna di ricavare il disegno della bottiglia che ha accolto il nettare della vigna di Leonardo da un rebus del codice Windsor. Uhlala. Pagina 12.966. Beh, in effetti anche noi recentemente all'Almanacco, quello speciale su Bergamo, abbiamo visto il ritratto della Lucina Brembati. C'è detto C con la luna e quello è un rebus, l'emminga è un rebus. L'emminga è un rebus. Lorenzo Lotto. Che rebus? Il Lotto faceva i rebus. I rebus. Va bene, abbiamo contributo. Rebus. Il suo uso della china, la precisione dei dettagli, sono stati fondamentali perché riusciva a realizzare dei rebus che altrimenti non avrebbero avuto figura. Gli anni che vanno dall'inizio della sua attività, quindi dal 50 a praticamente tutta la seconda metà del Novecento, lei ha costruito l'immaginario del rebus italiano. La Maria? La Maria? La Maria Ghezzi era nata a Bresso, a nord di Milano, il 23 febbraio del 27, quindi lei è morta il giorno prima del suo compleanno, frequenta il liceo artistico, poi l'Accademia di Brera e disegna i figurini di moda già a vent'anni, quando nello stesso periodo espone i primi quadri, dove nella trattoria di via Senato... Sì, perché quella volta si usava a esporre i quadri nei ristoranti. Con il gruppo del Gattoneo, quindi gli antisti sono Walter Pozzi e Sandro Parmeggiani. Nel 51 partecipa con un po' di tele al premio Bolzano per le pittrici italiane, in giuria c'è anche Palma Bucarelli, e qui incontra Giancarlo Brighenti, classe 1924, responsabile dei giochi illustrati della settimana enigmistica, che, diciamo, unisce il lavoro al sentimento. Lui prima la convince a cambiare genere, e poi? A sposarlo. E poi la convince a sposarlo. Sì, era una ragazza bellissima. Bellissima, per 50 anni fino alla morte di lui, i due formano la coppia d'oro dell'enigmistica italiana. Lui era il Briga. Lui inventava i rebus e li firmava, appunto, con il nome di Briga. E lei si firmava la Brighella. E grazie al sodalizio di questa coppia, che è una vera simbiosi tra parole e immagini, che si afferma uno stile del rebus moderno in Italia, le innovazioni che Briga, Brighenti, portano nel gioco, prendono vita grazie alla maestria grafica di Maria. Lei aveva una precisione realistica dei dettagli straordinaria, però era capace anche di coniugarla con l'effetto interrogante dell'insieme. Cioè, quindi, erano le situazioni leggibili, ma anche strane, erano interstiziali, a volte erano assurde. A ricordare che nell'origine della parola ci sono le cose, dal latino res, ma c'è anche il rovescio, lo scherzo, il sogno. Questo lo ha detto agli altri. Non di chilo, però. Ma Antonella sbrilli. Ecco. Senti, il Brighi era un genio. Sì. È l'uomo che riuscì a trarre un rebus, frase 7, 8, dal quadro La colazione dei canottieri di Renoir, semplicemente tracciandoci sopra due strisce nere, dopo aver posto sul quadro la lettera T e la lettera R, così. T e R davanti a Renoir fa terreno, avanza IR, Renoir o IR, IR, le righe, rigato. Terreno, irrigato. Hai capito. Questa coppia di Briga e Brighella, lui il suo pseudonimo, il suo nome d'arte scelto era Briga e lei aveva scelto la Brighella. Briga e la Brighella hanno dato al mondo dei rebus degli orizzonti e una profondità che in nessun altro paese al mondo è stata raggiunta. Ma adesso ancora il professore è nostro maestro a questo punto, in chino, da avanti al cui ci inchiniamo. Senti, 40 anni fa il Briga stabilì, e noi ve ne facciamo parte, il triangolo perfetto del rebus, ossia le tre caratteristiche che, se presenti assieme, fanno di un rebus un gioco riuscito. Originalità e brillantezza della chiave, bellezza della frase risolutiva, qualità dell'immagine. È un'arte che ne implica tre, l'arte della composizione, l'arte dell'illustrazione e infine l'arte della soluzione. Qui ci aiuta Barthezaghi. A quest'arte Maria Ghezzi si dedicò completamente. Non ho avuto più tempo per dipingere, perché disegnare i rebus è molto impegnativo. Diciamo che disegnare i rebus così bene come ha fatto la nostra Maria Ghezzi... Tu ci hai provato, ma... No, io non ci ho neanche provato. Non ci hai neanche provato. Lui vuole sempre buttarla così in cacciara. No. No, io non ci ho provato. Scusate, io me ne vado. Senti, bisogna comporre una scena con interni ed esterni in cui sistemare le figure e le lettere. E loro lo facevano da grandi maestri. E guai a sbagliare un dettaglio. È di grande importanza poi che il solutore incontri con ordine da sinistra a destra le figure e le lettere che portano alla soluzione. In fondo è come progettare una scenografia. Alcune soluzioni sono facili. Basta leggere le immagini una dopo l'altra. Altre volte bisogna interpretare un contesto. Il bambino che mente, l'uomo che osa. Nessun dettaglio è mai superfluo. E questo lo diceva lei. Lei, sì, sì. Leonardo, il briga si spegne a 77 anni il 28 dicembre del 2001. Era classe 1924, quindi avrebbe 100 anni. Oggi avrebbe 100 anni. La brighella, come abbiamo visto, muore il giorno prima di compiere 94 anni, il 22 febbraio del 2021. Se volete approfondire il tema dei rebus, per una volta non dovete telefonare a Piero. Vi consigliamo assolutamente. L'ora desiata vola. Guida al mondo dei rebus per solutori, aperta parentesi, ancora, chiusa parentesi, poco abili. Giunti 2021 e questo libro, ancora una volta, è dell'altro protagonista di fronte al quale facciamo l'inchino, inchino a Pietro Ichino, perché il giurista ex parlamentare è appassionatissimo cultore della materia. Io però, prima di lasciare la parola a Leonardo, scusate, ho il mio timbota, timbota tieni botta. Allora, oggi, 22, l'è un giuvidé, febbraio. Qual che la natura la neghe al pavone della testa, l'ga la regalè della cava. Cosa vuol dire? E questa è chiaramente riferita a Leonardo. Sì. Cioè, la natura a lui ha dato la bellezza, no? Però in testa non c'è niente. Quello che la natura ha dato al pavone della sua forma, gliel'ha tolto... Sono i primi segnali di demenza precoce. La famosa demenza pavonile, va bene, detto in modenese. Leonardo, cosa facciamo? Allora, c'è un appello a cui noi ci associamo. Una grande chiesa di Milano è un po' a rischio. San Pietro in Gessate, di fronte al tribunale, merita un recupero. C'è un comitato che si è formato. Ricordiamo, San Pietro in Gessate c'è la meravigliosa Cappella Grifi, affrescata da Butinone e Zenale a fine 400 con le storie di Sant'Ambrogio, tra l'altro. E il comitato lamenta questo. È un sito in pericolo. Gli affreschi diventano sempre più sbiaditi. Non sono valorizzati dalle illuminazioni insufficienti. Il sito è in rapido deterioramento. Se non interveniamo diventerà irreversibile. I cicli di affreschi che decorano le pareti laterali sono testimonianze uniche della pittura lombarda. E c'è anche un mail. Loro sperano nell'intervento di un mecenate. Chi è interessato può scrivere a info-santiprofeti.it Quindi, insomma, diamo una mano a questo luogo straordinario. Andatelo a visitare. Andatelo a visitare. Andatelo a visitare. A me capita spesso perché avendo una serie di processi in corso, quando entro ed esco dal tribunale vado a visitare. Andatelo a dire una preghiera. Vado a dire le preghiere. Però poi devo confessare che non metto la monettina e accendo molti ceri. Proprio a sfregio. Proprio a sfregio. No, Leonardo, scusa. In verità, noi siamo pronti ad aiutare la chiesa di San Pietro in Gessate. A domani. A domani. Ci facciamo anche seri per la chiesa di San Pietro in Gessate. Va bene. Ci vediamo domani. Ti è piaciuto? Sì. È contento. A domani. A domani. Al manacco di bellezza, a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simioni, Stefano Puppini, Jacopo Milardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Greta Torresi, Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi, Stefania Margheritti, Alessandro Puppini. Prodotto da Piero Maranghi, una produzione classica HD. Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.